Avete fatto una battaglia, avete portato avanti un concetto di comune consenso. Intanto abbiamo fatto discutere la città ma anche il Consiglio Comunale, c'è stata un'ampia discussione, è molto utile e alla fine il voto è stato unanime. C'è chi ha votato ovviamente a favore, chi si è estenuto ma il voto alla fine è stato unanime. Abbiamo trovato le condizioni per poter dire che il crocefisso va nelle aule scolastiche, mi sembra una cosa giusta dal punto di vista del cattolico è anche più soddisfacente ma anche per tutte quelle persone che non hanno questa religione e non hanno questa professione di fede è comunque un segno di pace e tolleranza, è un simbolo che riguarda la nostra cultura bimillenaria e che quindi va a mio modo di vedere a posto in tutte le aule come è stato provato in Consiglio Comunale. Mi auguro presto lo facciano.